Adesso mi sono addosso Sleping draft, a strong one This must be part of the seal It looks like this was left for me We have to keep it under the same Over the last of the scene In a country where I'm found I can't see how she looks I don't know To see the one in questo mondo è un orario incerto, nei primi nuovi cittadini di rock non sono andata male, che contiene ciò che iniziano a dire non ho capito un cazzo, che cazzo vuol dire? che cazzo vuol dire, che cazzo vuol dire che inizia l'apoca di questo, che cazzo che inizia l'apoca di questo, che cazzo ho una minima idea di dove possono essere questi nel primo momento è emerso e c'è una casa di un uomo che ha trovato dei tesori hanno scritto libri su di voi un uomo che ha trovato dei tesori, hanno scritto libri su di voi che cazzo vuol dire? che cazzo vuol dire? dove cazzo è questa cosa? tre discepoli identici sono nati dopo l'inundazione non ha scena le ho la minima fottura idea primo sta nella casa di un uomo che trovi l'ultima ma I'm not in the mood for chitchat, Mr. Reed. Non credo che sia Robert, sinceramente. Ho scritto un libro su di me. Ma... Che uomo ha trovato dei tesori, porca troia, scusa. Aspetta, hanno scritto un libro su di lui. Questo è un indizio. Credo. La biblioteca per l'altro. 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 Ma la biblioteca per l'altro. non, non vedo, non vedo ... 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 su carta forse il giornale forse il giornale però capisci che non mi puoi dire il giornale se tu mi dici che sono uno scritto libri su di lui mi viene in mente che non sia il giornale ma che si altro però comunque un risultato anche da un monolite comunque manca uno ho trovato dove non ho zicco se ci vengono è dentro a psa kkkk è un po' se posso davvero usare gli archivi devo usare solo la testa e quindi sono fottuto perché userò internet perché non usa così eh no no mi sa di avere già stanchezza non è possibile non lo so devo andare anche io perfetto che culo dopo l'inondazione dove cioè di attesa due netto di m k in se lo possibile sono molto antichi e uno però l'altro secondo monolito il problema è che sarà consigliato a Okhmut con tre scevoli, sono identico all'altro certo, come i primi nuovi cittadini di Okhmut dopo l'innalzamento del mare come i primi nuovi cittadini di Okhmut i nuovi primi cittadini di Okhmut forse il municipio vabbè comunque o qua o qua senza questo invece altro okhmut okhmut Ci sono prato da giocare perché sono ritardati Questa stangezza, mi sto prendendo una stanchezza assurda E non so perché, mi so che ho addornito E mi dispiace perché sembrerà sempre che il gioco mi annoia Ma in realtà so io Cittadini, no stranieri Dopo inondazione Ok Il secondo modito prenditoso e imponente sarà consigliato a Okamon Ponte di Scepoli Ciascuno è identico all'altro Entranno in questo mondo non vorrei, certo Come per i nuovi cittadini Dopo innalzamento del mare Non me l'ho, che Non me l'ho, che Non mi lascia, che Non mi lascia Non mi lascia Non mi lascia Ok Sottregge me, minchia, che cazzà Cioè Sta roba ci devi mettere la cervella per arrivare E' la stazione problema di incrocio tra Liberty Roth e Moulin Roth No, spero, è sceso un po' Moulin Roth dov'è? E' questa? Ok Ok, Moulin Roth Ehm Liberty Roth Liberty Roth E Moulin Roth E' qui Ok Ok Andata a rivederci Dai che ci siano Oh, panchina di merda Panchina, oh, devo non scerlo, cara Ok No, prima il primo monolito Perché magari vuole che gli facciano in ordine Comunque Noi faremo le cose in ordine Cioè, scusa, così si fa una cosa, no? No in ordine, la faccio ancora Ti piaccio gli ordini tipo Lo Ed No, no, ok 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 Eccolo, questo. Ok. Oh, c'è anche il faro. Non avevo ancora mai visto. No sign of a seal fragment on this side of the monolith. This isn't going to be easy. Ok. 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 ecco C'è qualcosa in l'amore, si chiede a loro, si chiede a loro, quindi ancora vuoi andare? C'è se che ho avuto una scuola. Poi, posso chiedere a te una scuola? Poi mettere questi crossi sui miei amici? Non ho capito di come ai aiutare i nostri amici. Se si accorgi, vi mostrerò a te dove avevo muerto. Prima il sguardo. Non è difficile da identificare i amici? C'è solo due giorni. Il loro corso non è vero. Ah, ma... c'è il pesce. Il pesce può portare la scuola, come qualcosa di vivo. C'è te aiutare. Adesso, dà me le crossi e provoci a dove dive. Ok, grazie a te, mister. C'è una scuola di dive sul primo. C'è una chiamata. Non ho capito il tuo nome. C'è te chiamata? Jimmy Price. Why do you ask? No reason. Just wanted to know your name. Oh... Ok. Bye. set di croce dei reti. Andiamo qua. Questa è l'ultima immersione del gioco, credo. qui c'erano 364 pesci giganti. Cthulhu in persona. No, non lo fare. Lo stai facendo, vero? Ehm... Ehm... Fais住. Sì, sì. Sì, ma sento i pesci intorno a me, non mi piace. Ok, noto la tua. Sarà l'unico che troverò, probabilmente. No, due. Sì, è... è davvero davvero. Scusate, mi dice quante ne ho. Quanti sono i membri della famiglia, perché secondo me non riesco a mettergliela su tutti. Tre croci di vene, è ovvio che erano tre. Ma non so dove il terzo. Ah, eccolo, perfetto. Questa è... grotesca. Non vivo né morto. No, scherzavo, neanche questo è stata un'immersione difficile. Sono andato all'atmosfera, e vedete l'atmosfera e basta. No. 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 E dai ti muovi, oh, bello ragazzi, non l'avevo visto via. Fai figo, fatt. Ok, abbiamo un singolare problema, dov'è l'ultimo? Ah, giusto, devo andare qui, so scemo, pensavo di aver già fatto. Per qualche motivo. Ma io poi questo qui è qui barricato, non l'ho capito io. Che cazzo di GeoLoka. Oddio, che cazzo è successo? Che cazzo è? Sta iniziando la fine del mondo? Mi cao. non è capo che vuole sede è proprio il mondo che trova questo la ruota verde poi mi diverti sua madre è la novantaverso non era così via la fine del mondo siccamente nemmo andare allora ferroviesto, giustamente ferroviesto ferroviario treno regionale 2749 proveniente da Roma e diretto ad Ancona in ritardo di 25 minuti allontanarsi dalla linea gialla ma non c'è il treno allontanarsi dalla linea gialla allontanarsi dalla linea gialla allora morita non morita ma è questa? ah sì è un po' difficile non vederla cioè potevi trovare e andare in giro per questa mappa per scatare anche se è quello di una madre della spiaggia non lo so e manco per il cazzo perché è piccolo non lo so che è So much. The same pattern as on the monolith. The chip looks fresh. The monster took a good bite out of this poor man. His own mother wouldn't recognize him now. Ok. Mi serve un attrezzo. Ma che mi serve fare questa qui? Vabbè, lo dici tu, Char. Hurry. I think I've heard something. We must have this piece of the stone. It's blessed. The wild bees smell us. Protect the stone. Time to figure this out. Harder. We must have this piece of the stone. Hurry. I think I've heard something. The wild bees smell us. Protect the stone. A group of fanatics chipped off a piece of the monolith and got away with it. Apparently it was the one with the niche I need. It's a cool. The- No. La città è rotta dalla città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho sbagliato, mi so, come sempre. Faccio tutto perché tanto sono la fine del gioco. Grazie a tutti. 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 Buon bacio. Grazie a tutti I hope they didn't smash the part I need There you are The door won't budge There you are I don't know why they want to build it because it's too difficult to understand what happened I don't know why they want to build it Let me take the key The piece of the monolith was brought here Partly eaten And the leftovers were taken upstairs The door was locked and the key hidden among the books This must be part of the seal Let me take the key You're welcome You're welcome Ok 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 Dove stavemo l'initi già intratto? Ok, 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 ok. E' il moide centrale in teoria è quello della chiesa, no? Il moide centrale in teoria è quello della chiesa, no? Trazmi parte. Ora, come c'è un po' che prendere? qui le... ...d'arrivo in canto di sentenza ...cima ...candar un mini-mumba ...cambi che... ...cambi che... Stiamo, 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 un altro rapido, più rapido che posso, un altro rapido e mi cago addosso. E' eseguito esattamente i rituali da coloro che avevano qui intenti a dir, prima che la città fosse fondata, non è completa. Dove? Adesso fare i rituali. Ritura. Su. Liotto russa interno, perché si. Perfetto il morale. Perfetto. Scusami. Perché non ci penso, non ci penso, non ci penso, non ci penso. Non ci penso. Oh, no. E' come una lestra. Vado, vado. Solo un FORTO genio. no in a pacchino scuola macchina pari del volto canzone quelle italiane antiche tra parenti come un bordo come un bordo come un bordo come un bordo anche città siamo uccidati coglioni segnali ho paura di andare a alla città di stocca perché magari c'è è pieni mostri per arrivare alla fine tipo dovrò combattere 744 morti mancappunto sono arrivati i rompi coglioni era solo lui non 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 mai come no, aspetta sta di sotto il pezzo questo è veramente salito quando si arriva ad andare di sotto sono uno scemo, beh che di sotto pure sarà pieno eh no alla fine è simulata secondo voi sarà questo, alla fine l'avrò fatta pure i mostri hanno ucciso no 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 attenzione 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 no ma che cazzo che pall ma è lo stesso filmato è lo stesso identico filmato ma è lo stesso filmato l'ho già visto verso inizio il gioco lo fa sempre allora lo scemo io forse siamo provati per rominare tutto quanto per decidere le sorti che ne voglio ma cosa mi dice che l'entrata sta qui? si 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 qualcuno mi spiega perché se ne vanno per aiutarti porca troia pensavo se fosse buggato non entrava si era bloccato lui non si muoveva più il destino del mondo in mano mia e io faccio così 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 e così no? dove sta il cazzo? un attimo che mi spiega genera un po' di sanità mentale un attimo che mi spiega se mi attendo se la pagina è no? ma che cazzo mostro piattura divina però questi hanno dei problemi provi a aver fatto una cazzata no dove sono? no mi sa che sono dentro sono entrato però però abbiamo un problema mi sa no mi fa vedere da scelto non ho capisco sì molti di persone vogliono lasciare il mio figlio non si non succedi voglio non di questo essere reale si dormire in mia beda in Boston eat real food drink good coffee e lo perdete Non è vero che mi muero. Non posso. Non posso. Siamo gli agenti di cambiamento, ma fare un altro ciclo. Io ho fissato le due per sparare, però non ho fatto niente. Fare un altro ciclo è fare una cosa ancora e ancora senza cambiare niente. Non puoi finire la sofferenza. Il ciclo è continuato. Non puoi cambiare chi sei. Mi scusate, padre, perché ho scontato. Siamo chiamati a rotto in questo borg. Il ciclo è morto e ci conto per ripeto il sacrificio deve essere l'unico che potrebbe riavviare. Sì. 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 I will not choose I'll break the cycle And free all of us trapped in Oakmont Enough is enough I'm leaving this damn city and its madness behind I will not choose Enough is enough I'm leaving this damn city and its madness behind And here we have the third option Or back here Ah no back here, it seemed to have gone out And here I have to choose If you don't ask me, you will also To be continued 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 To be continued